Dopo il rientro di Sanogo al Benevento, la cessione a titolo definitivo all'Alcione Milano, squadra di Serie D del portiere Arradaelli e la risoluzione del rapporto con Mirko Valdifiori, oggi si registrano altre due uscite. Guido Marilungo alla Prosesto, cenerentola del Girone A insieme con la Gianna Erminio. Per l'attaccante appena nove presenze in campionato con la maglia del Delfino, soltanto una da titolare a Gubbio. Marilungo era prodato in prestito la scorsa estate dalla Ternana, cui è legato da contratto sino a giugno 2023, con la stessa formula viene girato dal Pescara alla Società Lombarda. Altra operazione da noi anticipata lunedì nel corso della trasmissione solo calcio, il giovane difensore Pape Sacco, classe 2003, è stato ceduto a titolo definitivo al Bologna. In entrata invece è stato ufficializzato Mario Ierardi, il centrale di difesa, classe 98, ex Sio di Tirol e Ravenna, cresciuto nel Genoa. Arriva in prestito secco dal Vicenza, marcatore forte e fisicamente abile nei contrasti e nel gioco aereo, ma non rapido, più o meno lo stesso passo dei centrali già presenti in rosa. Il Messina strizza l'occhio a rizzo, solo un sondaggio da parte del Foggia di Zeman, non proprio funzionale infatti per caratteristiche al credo del Boemo. Nessun interesse dell'Abellino a confermarcelo, lo stesso DS Erpino, salvatore di Somma, tra l'altro ex difensore del Delfino, nel bienio 1975-77. Calma piatta intorno a Galano, una sola richiesta finora da parte dell'Ascoli che poi ha virato verso altri obiettivi storia di 20 giorni fa. Alla fine potrebbe anche restare, ipotesi al momento, tutt'altro che peregrina. Sarebbe in questo caso impossibile l'arrivo di una punta. Si è parlato di Boccalon del Venezia, ma l'agente Luca Pasqualin ha testualmente dichiarato nessun contatto tra il sottoscritto e il Pescara e tra i due club. Difficile la pista lungo, Gabrielloni, altro nome, non si muoverà da Como. Per il Teramo, che ha ufficializzato la cessione di Birligea a titolo definitivo al Clujy, conservando però il 40% sulla rivendita futura, attesa per il trasferimento di Mungo alla Viterbese, che offre alla classe 93 due anni e mezzo di contratto scadenza 30 giugno 2024. Il giocatore, che gode della stima di Guidi, non rientra però più nel progetto societario. Mungo non vuole lasciare Teramo, sta puntando i piedi, ma l'alternativa è restare fuori lista. Fase di stallo invece per il trasferimento di Lombardo alla Vibonese. Salta infine lo scambio Italeng-Montaperto col Taranto.